Ciao e benvenuto! Oggi vorrei condividere con te i punti chiave per creare una vetrina accattivante e allo stesso tempo sicura, utilizzando i materiali di confezionamento in dotazione col progetto Vai sul Bar Sicuro. È fondamentale infatti garantire sicurezza ai tuoi clienti, senza dimenticarti però che la vetrina è un potente strumento di vendita. Per questo motivo è importante mantenerla sempre pulita e illuminata, esporre al suo interno una gamma di prodotti che soddisfi le diverse esigenze e i diversi gusti dei tuoi clienti, ma soprattutto è importante esporre i prodotti in modo ordinato, così da ottimizzare gli spazi, dare la giusta visibilità ai prodotti, stimolare l'acquisto e velocizzare le ordinazioni. A questo proposito, utilizza i nostri astucci in carta alimentare per confezionare panini, focacce, toast e perché no croissant farciti in versione salata. Gli astucci sono impilabili e dotati di un'ampia finestra trasparente che renderà visibile la farcitura che ha creata, invogliando all'acquisto. Per i croissant e le sfoglie utilizza invece il sacchetto in carta alimentare, dotato anch'esso di un'ampia finestra trasparente che garantirà la massima visibilità al prodotto. Ricorda quando andrai a posizionarli in vetrina di distinguere sempre bene tra loro i vari prodotti per non generare confusione nel consumatore. Posizionare i prodotti, se lo spazio lo consente, su diverse altezze, così da fare il movimento in vetrina e catturare l'attenzione dei tuoi clienti. Ma soprattutto ricorda di identificare ogni singolo prodotto con etichette uguali e visibili dove scrivere il nome del prodotto ed eventuali ingredienti che compongono la farcitura. Sarà più facile così per i tuoi clienti scegliere. Vuoi ricevere i materiali di confezionamento e cominciare a creare la tua vetrina? Chiedi al tuo agente di zona, saprà aiutarti. Grazie. 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 Grazie.